La presentazione è della quinta serie dei 100 metri, in cui ci saranno gliede dell'Accademia T63 e T64, in corsia 2, Monica, contraffatto, gruppo struttivo parallelico difesa. In corsia 3, attenzione alla partenza di Martina Caironi, gruppo struttivo parallelico di Avigiani, in corsia 4, Alina Alexandra Simeone, con l'appuntativa al Vamese. In corsia 5, Daniela Pierri, ASD Atletica 2000. In corsia 5, Daniela Pierri, ASD, Grazie a tutti. Grazie a tutti.